Caso Vitrifrigo Arena, gli albergatori non rinunciano a Tecnocasa Frodi in appalti pubblici, denunciati sette pesaresi Tribunale, partiti lavori di ristrutturazione A Fano torna il Gran Galà dell'Olio Orchestra Rossini a Bucharest per un concerto dal sapore europeo Buonasera cari telespettatori E cari telespettatrici di Rossini TV per questa nuova edizione del Rossini News Telegiornale di mercoledì 11 di maggio Che apriamo con il caso della Vitrifrigo Arena Contesa fra i playoff della VL in calendario E la convention di Tecnocasa che aveva già prenotato l'arena nelle stesse date Vediamo Sempre più ingarbugliata la vicenda della Vitrifrigo Arena Già prenotata dalle 9.000 presenze della convention annuale di Tecnocasa Che, ironia della sorte, casca con la concomitanza degli insperati playoff della VL E con una gara 3 dei quarti di finale di Serie A Calendarizzati a Pesaro per il 19 di maggio Il sindaco Matteo Riccia le idee molto chiare Lo ha fatto presente ad Aspes che gestisce l'arena E a Tecnocasa La partita si gioca a Pesaro Garantisce il sindaco che si è reso disponibile A studiare location alternativa alla convention Quale piazza del popolo o lo stadio Benelli Una situazione pericolosa che espone a penali In caso di annullamento delle venti O ad ammanchi importanti per l'economia cittadina Come spiega l'associazione pesarese degli albergatori L'evento di Tecnocasa è uno dei pochi eventi Che ormai si porta nel tempo di Pesaro Circa 10 anni Che tutti gli anni vengono svolti nella nostra città È un settore, quello delle convention aziendali Che negli ultimi due anni di Covid È stato completamente marturiato Per ovvie ragioni di presenze E quindi oggi noi cerchiamo di ripartire Ma questo lo sta facendo un po' tutto il settore del turismo E soprattutto nel settore delle convention È un momento di ripartezza Ed è un momento molto delicato Andare ad agire per poi magari eventualmente annullare O quant'altro rimandare questa kermessa Per noi è estremamente pericoloso Perché oltre agli effetti economici diretti Che si possono avere in questo caso Già circolati nei giornali Si avrà anche un importante effetto domino Poi sui prossimi anni E di sicuro la città non ne uscirà ben vista Da questo punto di vista Quindi è vero la priorità è il basket Nessuno si aspettava che la WL Arrivasse a questi livelli Quindi siamo tutti felici E tutti tifiamo WL Però dobbiamo essere consapevoli Delle conseguenze che questo crea Sull'indotto turistico E sull'indotto economico della nostra città È per questo che siamo intervenuti E vogliamo partecipare al dibattito Perché siamo i primi ad avere riflessi su queste decisioni E quindi tutti gli albergatori sono concordi Sull'evitare che questo accada Sette pesaresi di cui quattro imprenditori E tre funzionari pubblici Sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza In queste ore Per una serie di gare d'appalto irregolari Che vi spieghiamo in questo prossimo servizio Tre funzionari pubblici e quattro imprenditori Sono loro i soggetti segnalati dalla Guardia di Finanza di Pesaro Per essere i responsabili di diverse condotte illecite Per quanto riguarda gare di appalto di lavori pubblici Lavori pubblici che coinvolgono il presidio provinciale dell'Erap Ente regionale per l'abitazione pubblica E un comune della provincia Sono emerse presunte irregolarità Su un cantiere nel periodo dal 2016 al 2019 Sul quale si attestava il completamento dei lavori Che però non sono mai stati terminati Opere pubbliche che erano state eseguite dall'impresa Solamente per il 70% circa Ma, al quanto sospetto Risultavano pagamenti per intero Alla società coinvolta Anche a fronte di opere di cui veniva accertata l'assenza Alla luce degli iniziali illeciti su un singolo appalto Le attenzioni dei finanzieri si sono concentrate Sui lavori di ulteriori 5 cantieri commissionati dall'Erap Per un valore complessivo dei lavori appaltati Per circa 4 milioni e mezzo Le attività investigative Per verificare lo stato effettivo dei lavori Hanno consentito ai militari di individuare ed accertare Le diverse ipotesi di reato di abuso d'ufficio Falsità ideologica Subappalto non autorizzato Tentata truffa Frode in pubbliche forniture E induzione in debita Tutti illeciti che quantificano un danno erariale Di circa 518 mila euro E il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Ha incontrato a Roma esponenti di rete ferroviaria italiana Con i quali si è confermato il crono programma Per i lavori di riqualificazione alla stazione di Pesaro Gli interventi inizieranno a gennaio 2023 E si concluderanno nel 2024 La stazione di Pesaro e l'area circostante Con un investimento complessivo di 10 milioni Avrà un restyling importante E una nuova integrazione con i servizi urbani E il territorio circostante E continuano a moltiplicarsi i cantieri Nella città di Pesaro Ora se ne sta allestendo uno Atteso da tanti mesi Come quello che riguarda la ristrutturazione del Tribunale Dopo mesi di attese, ritardi e posticipi Finalmente si vedono le impalcature Arrampicarsi sulla parete del Tribunale di Pesaro Ponteggi che sono stati allestiti dalla ditta romana Incaricata di lavori Appaltati attraverso un bando ministeriale Perché è strettamente statale La competenza sul Palazzo di Giustizia Impalcature che significano iniziare quei lavori Che si attendono da quando il 7 ottobre scorso Via San Decenzio fu transennata Per i cedimenti di piastrelle E rivestimenti esterni caduti dalla parete laterale del Tribunale Da lì due mesi di collegamenti stradali interrotti A scapito della viabilità veicolare E di quella dei residenti delle varie via Gian Santi E via Orazio Flacco A dicembre il Comune intervenì con una messa in sicurezza temporanea Per riaprire a senso unico la circolazione sulla strada Ma la situazione è rimasta tale da allora Ed è destinata ad esserlo per parecchi mesi a venire Perché parte solo in questo mese di maggio Quella opera di ristrutturazione Che si auspicava cominciasse in inverno Un investimento di mezzo milione di euro Per mettere in sicurezza un edificio particolarmente ammalorato A dispetto degli appena 16 anni di vita della struttura Un palazzo dove attualmente sono vietate Le aperture di gran parte degli infissi laterali Proprio per pericolo crollo Ora si spera che i lavori segnino la parola fine Su un altro dei cantieri lumaca della città Ed ora spazio come di consueto alle vostre segnalazioni Che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero whatsapp Che potete vedere in sovraimpressione Continuano ad esempio ad arrivarci segnalazioni di erba incolta E vegetazione selvaggia in città Come possiamo vedere dal prossimo servizio Continuano le segnalazioni di voi telespettatori a Rossini TV E in particolare state continuando a segnalarci Casi cittadini di erba incolta e vegetazione selvaggia Che rendono di fatto impraticabili Alcune aree cittadine dedicate a parchi comunali E aree gioco Casi che riguardano soprattutto le periferie Nella settimana scorsa ci siamo occupati Del parco comunale in via Monterosa Zona Borgo Santa Maria Di fatto avviluppato da una giungla Di arbusti, fiori ed erba davvero alta Oltre, fin oltre la recinzione di delimitazione Oggi siamo invece a Villa Fastigi In via dei Canonici Nella zona a pochi passi Dal centro sportivo della Vispesoro Delle giovanili della Vispesoro Dove dovrebbe sorgere la cittadella dello sport Ed è proprio una delle aree Che dovrebbe essere interessate ad una riqualificazione Riqualificazione quanto mai opportuna Perché questa area giochi È di fatto soffocata Da una vegetazione fuori controllo Le panchine, i giochi Come potete vedere da queste immagini Sono completamente avvolte Da questa erba incolta Un altro caso di parco comunale periferico Dimenticato, trascurato Che ci sentiamo di aggiungere Alla lista di interventi opportuni Per rendere agibile Quella che è un'area giochi Anche di recente costruzione Ma che in questo momento È abbastanza dimenticata Sia dal comune E naturalmente anche dalle famiglie Che difficilmente riescono a usufruirne Continuate come sempre a segnalarci Casi come questo a Rossini TV Al numero Whatsapp dedicato 370-366-7210 E altre foto di telespettatori Che ci arrivano In merito a erba incolta In giro per la città Ci arrivano infatti Dalle foto di Giovanni Di Borgo Santa Maria Che riguardano tratti Di via Montebianco Via Montevettore E via Monte Amiata Così come da quelle di Daniele Che riguardano le aree verdi Circostanti Largo Ascoli Piceno Sabato 21 e domenica 22 Torna Fano Il Gran Galà dell'Olio Da quest'anno Non ci saranno soltanto Premiazioni Alle migliori produzioni Ma anche una vera e propria Mostra a mercato Che si terrà Nella zona del Pincio Vediamo Fano capitale dell'Olio E per tutto un weekend Sta infatti per tornare Il Gran Galà dell'Olio Denominato L'Oro d'Italia E del Mediterraneo Niente meno che uno Tra i più importanti Eventi nazionali Del settore La manifestazione Nasce dalla sinergia Tra Olea E il Comune di Fano Con il contributo Del Consiglio regionale Delle Marche E con il patrocinio Tra gli altri Del Ministero Delle Politiche Agricole Della Regione E della provincia Di Pesaro Urbino Il taglio del nastro È in programma Per sabato 21 maggio Nella Pinacoteca San Domenico Inizieremo sabato 21 Dalle ore 16 Con la cerimonia Di premiazione Dei vincitori Dell'Oro d'Italia 13esima edizione E dell'Oro del Mediterraneo 11esima edizione Quindi sarà un momento Di incontro Di tutti i migliori Produttori d'Italia E non solo E soprattutto Sarà anche il momento Per la consegna simbolica Della bottiglia Dell'olio Della solidarietà Che storicamente Noi assegnavamo Alla mensa Padre Pio di Fano Ma che grazie All'incremento Degli oli presentati E concorsi Da quest'anno Possiamo estendere Anche alla Lega Del Filo d'Oro Dopodiché Naturalmente Faremo la consegna Dell'olio Ambasciatore Sarà una giornata Di incontro Tra il pubblico E i produttori Varanno da tutta Italia Sono produttori Che vengono Soprattutto Da molti Della Puglia Che è la regione Più rappresentativa Che produce più olio Al 70% Dell'olio italiano Viene dalla Puglia Quindi è più rappresentata Poi ci saranno produttori Oltre i nostri Del territorio Che ringrazio Ringrazio anche La Reale Dopp Cartuceto Per l'opportunità Che ci hanno dato E che daremo noi a loro Altri produttori Della Campania Dalla Sardegna Dalla Modal Non solo premiazioni Non solo premiazioni però Da quest'anno C'è infatti Una grande novità Una vera e propria Mostra mercato Un salotto Dell'olio Che non poteva Che svolgersi Nel cosiddetto Salotto buono Di Fano Il Pincio L'appuntamento È per domenica 22 maggio Dalle ore 10 Sì arriviamo anche A valorizzare Diciamo così All'aperto Open air O un plein air Come abbiamo detto A Fano in questi anni La nostra No gastronomia Un mercatino Molto interessante Che faremo al Pincio Quindi la possibilità Di vivere bene Anche il nostro centro storico Che come sempre È bellissimo E si presta anche Per valorizzare I prodotti Eno gastronomici Ci abbiamo provato Sono alcuni anni Che volevamo fare Realizzare Al centro di Fano Questa rassegna Diciamo Fieristica Se vogliamo Che l'abbiamo denominata Expolea Che richiama Olea Quindi l'esposizione Di olio Con i produttori Che abbiamo invitato Solo su invito Da parte nostra Per quest'anno Un evento In grande stile Dunque E con un unico Comun denominatore La qualità Esattamente Sì E la qualità È in continuo incremento Tanto che questa È la seconda annata In cui in pratica Non abbiamo avuto Presentati al concorso Oli difettati E non solo È aumentato Il numero Degli oli Premiati Con le nostre Cinque gocce Il che significa Che questi oli Hanno avuto Un punteggio Superiore Ai 90 centesimi Il che li colloca Nell'eccellenza Assoluta Della qualità Sarà un'occasione Per i visitatori Per il pubblico E dei consumatori Di approcciarsi Avvicinarsi A questo mondo Ancora Per molti Sconosciuto Dove potranno Apprezzare Veramente Le cose Più straordinarie Non parliamo Di oli commerciali A noi In questo caso Non interessa Poi il supermercato E ho tutta un'altra storia Intanto i nostri produttori Di olio Ogni anno Migliorano il prodotto Fanno a ricerca Anche attraverso L'Assam L'azienda speciale Della regione Marche Che tra l'altro Proprio ieri Ha visto Una nuova legge Di riforma Della struttura Perché sempre di più Vorremmo assistere I produttori Specialmente quelli di olio Per trasformare Questo già straordinario Prodotto In una eccellenza Questo perché Perché se riusciamo A fare un trasferimento Di ricerca Sul prodotto Migliorarne La qualità organolettica L'olio Può diventare Uno di quei prodotti Che arricchisce L'agricoltore E che fa sì Che si possa vendere A un prezzo più alto Quindi Non entrare Sul mercato generico Ma entrare Sul mercato in nicchia Ed è quello Che si aspetta I nostri produttori Di olio Che oltretutto Saranno coinvolti Anche nel progetto Dei distretti del cibo Proprio perché Nei percorsi Anche degustativi Dell'olio Si possono creare Movimenti di turismo rurale E tra due giorni Partirà la settima edizione Del nuovo Squally Track Un evento amatoriale Che nel 2021 È stato il quinto in Italia Per numero di partecipanti E i suoi aficionados Si ritroveranno Per testare Gli spettacolari percorsi E soprattutto I mitici ristori Una settima edizione Che conta già 3.000 iscritti Offrendo un programma Ricco di appuntamenti Per tutti Si parte venerdì 13 maggio Con l'inaugurazione Della Shark Arena Alle ore 12 E si concluderà Domenica 15 maggio Con le premiazioni Di categoria Durante le quali Verranno incoronati I primi tre classificati Domenica 15 maggio Al Parco Miralfiore Di Pesaro Si terrà La giornata dello sport Un appuntamento Un appuntamento Dalle 14 Alle 18.30 Organizzato Dalle CSI Marche Aperto a bambini Ragazzi Fra i 3 E i 16 anni Saranno presenti Nell'occasione Per corsi Di attività motorie Basket Calcio Pallavolo E badminton Alla presenza Di alcune società Sportive Del territorio E in occasione Delle Grand Tour Delle Marche Domenica 15 maggio La biblioteca Oliveriana Apre le sue porte A due suggestivi Itinerari Con laboratori Per bambini Dal titolo Alla scoperta Dell'Oliveriana Con Annibale Dagli Abati Olivieri Itinerari A ingresso Gratuito Ma con Prenotazione Obbligatoria Alle ore 16 E alle ore 17.15 A seguire Alle 21 Ci si può Prenotare All'evento Molto particolare E divertente Con la escape room Dal titolo In trappola Fuga Dalla biblioteca Ed ora Ci occupiamo Di un grande Appuntamento Che vedrà Pesaro Protagonista Bucarest Grazie all'orchestra Sinfonica Rossini Che accompagnerà In concerto La chiusura Del semestre Italiano Alla presidenza Del consiglio D'Europa Vediamo il prossimo Servizio Saranno le Composizioni Dell'orchestra Sinfonica Rossini Ad accompagnare La chiusura Delle semestre Di presidenza Italiana Del comitato Dei ministri Del consiglio D'Europa Presidenza italiana Che si conclude Il 20 maggio E che sarà Preceduta Sabato 14 maggio Da un grande Concerto A Bucharest Nella sala grande Dell'Ateneo Romeno Concerto Che è stato presentato Oggi nel comune Di Pesaro Con l'intervento In collegamento Da Bucharest Dell'ambasciatore D'Italia Alfredo Durante Mangoni Ambasciata Che organizza Il concerto Assieme all'istituto Italiano Di Bucharest Alla filarmonica Giorgio Unescu E all'orchestra Sinfonica Che vedrà Sul podio La direzione Di Daniele Agiman Con l'orchestra Al gran completo Torniamo Torniamo finalmente All'estero La nostra attività Internazionale Riprende Dopo l'anno Di covid Riprende Con le migliori Auspici In una delle sale Più prestigiose Del mondo La sala Dove suona La filarmonica Enesco Una sala Piena di storia Per un evento Appunto istituzionale Estremamente significativo La chiusura Della semestra Di presidenza italiana Del consiglio Di ministri d'europa E in una Di fronte A un pubblico Tra i più preparati E più attenti E più appassionati Del mondo Davvero del mondo Un grande momento istituzionale Che si lega Ad una promozione Di Pesero Capitale Italiana Della cultura 2024 Abbiamo concordato Con la sua eccellenza L'ambasciatore Durante Che è il vero artefice Di questa Grandiosa iniziativa Un programma Dove sono rappresentati Tutti i maggiori Operisti italiani Da Rossini Fino a Puccini Proprio davvero tutti Ma con Brani Non i soliti Quelli che si sentono Normalmente Dei concerti Liricosinfonici Ma brani anche Accattivanti E poco eseguiti Abbiamo due straordinari solisti C'è l'orchestra sinfonica Rossini Che è la vera protagonista Del concerto Con quattro verture Complessissime Verdi Rossini E Leon Cavallo E poi Insieme a noi Francesco Anile Uno dei tenori italiani Più presenti Nel panorama internazionale Da Metropolitan Alla Scala E Emanuela Torresi Che è una soprano Della zona Che abbiamo già valorizzato In precedenza Che è un piacere ritrovare Grande successo ieri sera Per la prima puntata Della seconda edizione Di Qua la Zampa Il programma Con il nostro Antonio Astuti E le emissioni Di Giacomo Giacle Lucchetti E la sua Juliet Fra canili E gattili d'Italia Anche alla presenza Di animalisti VIP Prima puntata Che ha dedicato Particolare attenzione Al gattile sanitario Di Pesaro Che ha ricevuto La sua proroga Di gestione Fino a fine dell'anno E come sempre Attenzione particolare I nostri amici A quattro zampe Da adottare Che potete vedere Con la novità Delle bellissime immagini In HD Dunque non perdetevi Qua la Zampa Ogni martedì Alle 21.20 E chi si fosse perso La prima puntata di ieri Può rivederla Attraverso le nostre repliche Tra cui quella di questa sera Alle ore 22.30 E concludiamo Il Tg di questa sera Con una notizia di sport Che riguarda L'Ital Service Pesaro Slitta infatti Di una settimana L'ultima partita Di regular season Così come i playoff Della serie A Di calcio a 5 Rinvia A causa di alcuni Casi di positività Al covid Nella squadra Della fel di Eboli Che fanno rinviare Dunque l'intero turno Per la necessità Di contemporaneità Fra tutte le gare Slitta dunque Da domenica 15 A sabato 21 maggio L'ultima di campionato Dell'Ital Service In campagna Contro il Real San Giuseppe Partita che sarà Trasmessa in diretta Su Rossini TV Dalle ore 18 E con le notizie di sport Si conclude qui Questa nuova edizione Delle Rossini News Prima di salutarci Però vi ricordo Gli appuntamenti In programma Stasera infatti Alle ore 21.20 Ci sarà lo speciale Realizzato da Rossini TV Sulla 43 Ma mostra del libro Per ragazzi a Vallefoglia E poi vi ricordo Come di consueto L'appuntamento Per domani mattina Con Buongiorno Rossini In diretta Alle ore 7.20 Per la rassegna stampa Dei giornali Della provincia Di Pesaro e Urbino E domani Giovedì 12 di maggio Non perdetevi Alle ore 19 La puntata La nuova puntata Delle pesce azzurro Quiz Show Che potrete seguire Anche su Facebook Sulla pagina di Rossini TV E poi da questo venerdì Da venerdì 13 di maggio Ci sarà Su Rossini TV Il ritorno Del programma Vox Pop La voce dei pesaresi Alle ore 19 Con replica Poi in serata Alle ore 22.30 E poi altre repliche Nel corso della settimana Come sabato Domenica Lunedì E martedì E con questo è veramente tutto Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Una buona serata Grazie a tutti